Eccoci qui, lei l'ha vinto il derby, l'ha vinto bene, l'ha vinto con convinzione. Una partita, l'aveva detto chiaramente, non è come le altre, quindi ha un valore doppio. Sì, è una grande soddisfazione per noi e per come ha affrontato la gara la squadra, concedendo poco alla Lazio, poi magari abbiamo riaperto con quel rigore, però credo che sia stato fino a quel momento un grande predominio da parte della Roma nel gioco e nelle aggressioni ed è quello che un po' ci ha fatto vincere la partita. Ecco, questo proprio ha colpito, cioè anche la condizione fisica di questa squadra, perché avete pressato per quasi tutta la partita a segno che state bene con le gambe. Sicuramente per poter giocare in un determinato modo bisogna avere una buona condizione fisica, non puoi stare dall'altra parte e poi cercare di rimediare le ripartenze veloci della Lazio. Nel primo tempo abbiamo concesso poco, diciamo niente a loro nelle ripartenze dove potevano essere bravi, siamo stati meno incisivi davanti, nel secondo tempo invece abbiamo un po' cambiato passo all'inizio, in particolar modo i primi 20 minuti in cui abbiamo messo la Lazio nella loro metà campo e abbiamo, dal mio punto di vista, meritato questo risultato.